Oggi ci troviamo all'ospedale Molinette di Torino, presso il centro ipertensione e faremo un viaggio in quello che è il mondo dell'ipertensione arteriosa. Siamo due specializzande che lavoriamo qui al centro di Torino e vi accompagneremo in questa avventura. Abbiamo qui Isabel che ci aiuterà facendo la paziente per questo momento e quindi vedremo un po' come funziona il cuore e i vasi che portano il sangue nel nostro organismo. Il cuore è una sorta di pompa nel nostro organismo che permette di far arrivare il sangue a tutti gli organi in periferia e il sangue viene trasportato dalle arterie, dai capillari e dalle vene. Il cuore contraendosi genera quindi una pressione all'interno di quelle che sono le arterie del nostro organismo e questa pressione noi possiamo misurarla a livello periferico, a livello del braccio del nostro paziente. La pressione viene definita solitamente da dei valori di normalità che nell'adulto sono tra 120 e 140 per quella che è la pressione massima che corrisponde alla contrazione del cuore e tra 80 e 90 per quella che è la pressione minima che invece corrisponde dal rilasciamento del cuore. Noi possiamo misurare la pressione a livello del braccio utilizzando diversi strumenti sia manualmente che degli strumenti invece automatici che possono essere anche utilizzati a casa. Con lo strumento invece manuale la pressione viene misurata a livello del braccio. Si pone questo che è il bracciale all'incirca a questo livello ossia due dita al di sopra di quella che è la piega del gomito. Quindi si va a indossare quello che è il fonendoscopio e gradualmente si inizia a gonfiare la pompetta di cui è costituito lo spigomanometro. Si gonfia gradualmente fino alla scomparsa di quella che è la pulsazione a livello dell'arteria e dopodiché altrettanto gradualmente si sgonfierà. In corrispondenza di quella che è la pressione massima si avrà la comparsa dei toni generati dalla contrazione del cuore. Quando questi toni scompaiono invece si ha il valore di pressione che viene detta minima. A casa si possono utilizzare degli strumenti automatici che rilevano semplicemente la pressione. Si parla di pressione alta quindi di ipertensione quando i valori di pressione sono al di sopra di quelli che sono i limiti di riferimento soprattutto questo per quanto riguarda l'adulto. Nei ragazzi più giovani sotto i 16 anni i valori possono cambiare, essere differenti a seconda del sesso, dell'età e dell'altezza e quindi non sempre corrispondono a quelli dell'adulto.